Primo o poi doveva capitare anche l'ospedale di Alca, ma purtroppo adesso un suo focolaio. La situazione comunque pare già abbastanza circoscritta. I quattro pazienti ricoverati, risultati positivi al Covid, sono stati trasportati con tutte le dovute cautele nell'apposita ala dell'ospedale, già da tempo individuata per tali evenienze. Tutti i sanitari, medici, infermieri e os, venuti a contatto con i degenti positivi, sono stati già sottoposti a tampone e sono risultati tutti negativi. Continueranno comunque ad essere monitorati e fra alcuni giorni subiranno un altro prelievo. Intanto sono stati tolti dai reparti. Un iter previsto e corretto che però rende ancora più insufficiente il numero di dipendenti necessari a coprire tutti i turni. Tagli, trasferimenti di personale e accorpamenti di reparti che adesso devono fare conti anche con l'ipotizzabile nascita di un focolaio. Non c'è da sorprendersi più di tanto che ciò sia accaduto anche all'ospedale di Alcamo e non è il caso di far polemiche per questo. Di certo l'Asp però avrebbe dovuto prevedere tali situazioni e dotare il sanvito e santo spirito del personale necessario a garantire soddisfacenti livelli di assistenza. Considerazioni simili sono state esposte anche dall'organizzazione sindacale Nursin. Purtroppo ci giunge notizia che nell'ospedale di Alcamo c'è un piccolo focolaio, 7-8 persone contagiate tra personale sanitario e pazienti. Può succedere? Certo che può succedere. Come è successo a Palermo, succede in tanti posti e succede anche nell'ospedale. Visto che noi come organizzazione sanitaria siamo purtroppo un ospedale prettamente ospedalocentrico. Quindi è normale che succeda. Quello che non deve succedere è che già in una situazione che abbiamo nell'ospedale, già da diverse settimane che noi segnaliamo condizioni di lavoro degli operatori sanitari abbastanza carenti, questo non ci voleva perché è chiaro che le persone contagiate verranno meno perché dovranno stare in isolamento per minimo i 10 giorni. Quindi che cosa significa questo? I grid allarme servono semplicemente per evitare questo. Servono semplicemente per evitare questo. Per evitare che in condizioni già semicritiche non vengono le condizioni per arrivare a una condizione critica come adesso. Quindi ora che succede? Dobbiamo per forza immettere nuovo personale. E allora perché non si faceva anche prima? Perché non si faceva anche prima? Non esiste solamente un discorso che abbia fatto la settimana e un reparto, come ho sempre detto io, che è la cardiologia. È un punto, ma è l'ospedale intero che ha bisogno di nuove risorse. Ha bisogno di nuove risorse in condizioni particolari. Lo diciamo sempre da settimane. L'ospedale Partilico è chiuso, è covid. Tutto il comprensione del Palermitano, del territorio di Partilico, viene da noi. Partilico è chiuso, è un punto, ma è un punto, ma è un punto.